Si è svolto stamattina il primo congresso Wiltec, sindacato Tessile, Energie e Chimica, un'occasione per discutere delle vertenze in atto nel territorio, dalla Pfizer alla Mirmex, ma anche per nominare i nuovi segretari di categoria. Segretario generale Giovanni Santagati e segretario generale aggiunto Alfio Avellino. Ancora a Catania ho in corso alcune vertenze che sono in sospeso. Vedi il discorso della Mirmex, perché abbiamo 80 lavoratori ancora sospesi a un filo, senza sapere quale sarà il loro futuro. Per quanto riguarda la Pfizer abbiamo già chiuso una procedura di mobilità di 25 unità e l'abbiamo convertita su base volontaria. L'altro discorso abbiamo anche un problema per quanto riguarda la Sifi, che abbiamo aperto una procedura di mobilità di 38 unità, che per il momento abbiamo fatto un accordo, un incentivo all'esodo, ma non sappiamo quanti sono le persone che possono aderire. Ecco l'appello del segretario. Io vorrei fare soltanto un appello ai politici, all'istituzione di Catania, che la prima cosa dal mio punto di vista da fare è che in qualsiasi modo dobbiamo smontare la legge Fornero, perché questa non ha fatto altro che invece di aiutare i precari abbiamo creato più precariato. Quindi mi auguro che le istituzioni ci aiutino, perché veramente siamo in grossissima difficoltà. Nominati anche i componenti della segreteria Anna Longo, Antonino Barbagallo e Luca Salvini.